Buonasera a tutti, io sono Federico Bonaccini con una C del Fola numero 6 e niente, ci appartiamo a svolgere, a partecipare alla prima partita questo è Gino, che è molto fastidioso come sempre prima partita di questa edizione della Coppa dei Cantoni noi cercheremo di mettercela tutta e proveremo a vincere questa Coppa che tra l'altro abbiamo già vinto una volta quali saranno le chiavi per questo Fola attesissimo? sicuramente sarà la squadra, perché noi siamo una squadra noi ci crediamo, noi siamo uniti, noi lottiamo tutti insieme vinciamo e soprattutto perdiamo tutti insieme